Le firme che mancano sono quelle di CGL e Will e tutte le altre sigle sindacali hanno invece deciso di sottoscrivere l'accordo sulle norme che riguardano il personale contenute nella finanziaria. L'accordo segna una tregua parziale dopo settimane di tensioni tra governo e sindacati che avevano portato ad alcune proteste già nei giorni scorsi allo sciopero previsto per domani, adesso confermato solo da CGL e Will. In base all'accordo sembra dunque passare la linea dell'equiparazione dei regionali e dipendenti statali, i punti però che meno piacciono ai sindacati saranno trattati separatamente con l'ARAN, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di permessi sindacali, rinnovi contrattuali, mobilità del personale regionale, criteri di riorganizzazione e riclassificazione del personale in caso di prepensionamenti. Tirando le somme la legge di stabilità interverrà sulle pensioni mentre sarebbero tagliati fuori gli aspetti di tipo contrattuale da affrontare poi con l'ARAN. Una prospettiva che piace a CISL, COBA, SCODIR, SIAD, UGL ma bocciata invece dalla funzione pubblica della Will e della CGL.